Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo un signore di Belgrado, ex Jugoslavia, il quale mi pone questa domanda, dottore, ma come faccio a dimenticare la mia ex che mi ha tradito, mi ha lasciato con tre figli, è scappata via e io non riesco più a dormire. Dopo vent'anni di matrimonio, ho tre figli piccoli, sto soffrendo come un cane, nessuno mi aiuta, non so a chi rivolgermi e cose di questo genere. Io gli ho consigliato che esista un bellissimo audio MP13S dal titolo no ex, no relazioni negative che può fare al caso suo. È un vero e proprio capolavoro unico al mondo che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills e che vale sia per gli uomini che per le donne per dimenticare il tuo ex o la tua ex. perché il dolore che senti emotivamente parlando proviene dal tuo subcosciente. Se il tuo subcosciente fosse stato tarato da piccolo a non soffrire a causa di abbandoni e tradimenti, tu non soffriresti. Lo so che adesso mi prendi per pazzo, magari pensi, ma che cosa racconta, che cosa dice, tutte sciocchezze, fesserie e compagnia bella. Però a me piace, essendo un seguace di San Tommaso, se non tocco, se non vedo, non credo, di far parlare i fatti. Per cui se tu hai dubbi che ti costa rinunciare ad una colazione al giorno per soli 30 giorni e scaricarti quest'audio MP13S dal titolo non relazioni negative, no ex che trovi sul sito dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills alla quale ho ceduto tutti i miei diritti sugli audio MP13S. Seguire le istruzioni molto facile, alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro e meravigliarti del potere del tuo subcosciente. Trattasi solo di parole pulite, trasparenti, naturali, senza nessunissimo effetto collaterale perché l'Ipnosi DCS vera e professionale a V maiuscola hanno nulla a che vedere con l'Ipnosi Fuffa, l'Ipnosi da spettacolo, l'Ipnosi paura, l'Ipnosi da film e neanche, ascoltami bene, con la stessa pur ottima, l'Ipnosi conformista commerciale di Milton Erickson, De Velma, Umbraia Weiss, dalla quale sono partito tanti e tanti anni fa, dai protista autodidatta, per poi staccarmene e sposare il metodo della dottoressa Rina Brunini e del professor dottor Miguel Angel Garai di Los Angeles, Beverly Hills, i miei maestri, i miei associati, i miei mentori, i miei amici per l'eternità, d'accordo? Le istruzioni sono facilissime e ti meraviglierai. Che cosa succede? Succede che dopo tu ti ricorderai di lei, della tua ex o del tuo ex, però senza più soffrire, dando un senso alla tua vita come se fossero passati 30 anni, 50 anni, perché anche il tempo è una grande, è una grande, è un grande sollievo. Quindi l'Ipnosi di cesso non fa altro che convincere il tuo subconscio, il tuo pilota automatico, il tuo genio di Aladina che non ne vale la pena soffrire, ok? E ti dà quell'energia per riprendere in mano le redini della tua vita e andare avanti. Ho conosciuto quando facevo ipnosi di CS online, su Skype soprattutto in tutto il mondo, molti ragazzi e molte ragazze che soffrivano come dei cani feriti a causa di un tradimento, di un abbandono sia con e sia senza figli in mezzo. Ti posso garantire che ci vuole moltissimo tempo per riprendersi e neanche ci si riprende bene dopo un trauma che deriva dal greco e significa ferita emotiva del genere. Per cui se tu piangi dalla mattina alla sera a causa di un tradimento, a causa del fatto di essere stato mollato o mollata, bene, scaricati da qualsiasi parte del mondo in cui abiti, quest'Audi MP3 di CS, che male che vada, anche senza sessione online di ipnosi di CS, vera e professionale a B maiuscola, unica al mondo, che al momento non sono spese per problemi di tempo, di impegni, ti solleverà da quel peso che è sulle spalle, nella mente, a rivedere, rimuginare, a pensare, ripensare ai momenti belli e brutti di quando stavi insieme al tuo compagno, alla tua compagna. Aspetto le tue domande, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visitate dal mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS, del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché puoi essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, che ti può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, gentilmente, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS, del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia e alla prossima, dal dottor Claudio Saracino alla tua, ciao.